Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, oggi siamo qui per il match day di Last Juventus sarà una partita sicuramente complicata e come ben sapete il giorno della partita parliamo delle formazioni di quello che ci aspettiamo di vedere e di quelle che sono le statistiche più interessanti nei confronti degli avversari ovviamente rapportate a quelle della Juve per capire anche magari in anteprima quale tipo di gara possiamo attenderci intanto una segnalazione, lo sapete tutti, non ci sarà Massimiliano Allegri, influenzato, già ieri avevano detto, si vedeva che non era in ottima forma Landucci sa benissimo come si vince a Roma, l'ha già fatto nella scorsa stagione, non contro la Lazio ma contro la Roma di Giuseppe Murigno col gol di De Sciglio e quindi speriamo che oggi possa essere una partita di questo tipo e ovviamente pronta guarigione al nostro allenatore che seguirà la partita da casa sul divano un po'. Come faremo noi? Piccola parentesi, Milan e Inter stanno un po' scherzando col fuoco, mi pare di capire i risultati di ieri vanno in una direzione inaspettata e cioè un pareggio di entrambe contro due squadre Salernetana e Empoli che sulla carta sono dei match abbastanza semplici le romane invece sappiamo in questo momento hanno qualche problema legato appunto al discorso valutazioni, plus valenze, operazioni di mercato, esattamente quello che è stato contestato alla Juventus questo campionato di Serie A non smette di stupirci con il Napoli che comunque invece continua a vincere una partita forse abbastanza complicata, forse il Lecce è stata la gara che tra andate e ritorno ha messo un po' più in difficoltà il Napoli dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista anche della difficoltà di andare ad ottenere la vittoria nella partita di ieri quindi Serie A molto particolare, molto bizzarra, bisognerà capire ovviamente lato giudiziario che cosa accadrà ho paura che quest'estate e comunque questo campionato possa essere più discorsivo che sportivo perché secondo me tante 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 questioni passeranno da quello che decideranno i giudici piuttosto che i calciatori e questa cosa secondo me non è per niente bella quindi le milanesi che in questo momento stanno arrancando le romane e la Juventus che in questo momento hanno sicuramente altri pensieri è il Napoli che invece fa un campionato a parte, tutto da solo, sulla soglia degli oltre i 100 punti anche se non potrà raggiungere i 102 del record della Juventus di Antonio Conte stagione 2013-2014 vediamo che cosa succederà, intanto la lavagna, la lavagna tattica perché secondo Sky Sport queste sono le formazioni che andranno in campo per Lazio e Juventus nella partita di oggi quindi la Juventus che torna al suo solito 3-5-2 l'abito migliore per questa Juventus che le ha permesso questa risalita quindi Cesni importa, attenzione che in tanti parlano di un potenziale riposo di Danilo per far subentrare Alexandro io non so se effettivamente questa cosa verrà confermata oppure no non mi sembra la partita giusta per far riposare Danilo se posso essere onesto e sincero con voi non mi sembra la partita giusta per far riposare Danilo non perché non ne abbia bisogno perché Danilo ormai è inossidabile, le sta giocando veramente tutte ma è una partita ad alto rischio e tra l'altro Felipe Anderson e Zaccagni non sono clienti comodissimi perché al centro del tridente dovrebbe tornare Ciro Immobile dal primo minuto dopo un'assenza molto lunga quella posizione l'aveva ricoperta Pedro tra l'altro con discreti risultati l'ha segnato anche l'ultima partita attenzione che invece con Immobile c'è un modo differente di attaccare la profondità e l'area di rigore come giustamente ieri diceva anche Massimiliano Allegri questi saranno affaracci di Bremer che dovrà cercare di riscattarsi da quel rigore procurato all'ultimo secondo nei confronti dell'Inter segnato poi da Romelu Lukaku che anche ieri invece ha fatto un errore abbastanza... va bene si commenta da sola l'immagine doppio errore di Lukaku nelle partite con Fiorentina e Salernità invece contro di noi il rigore lo segna è come se lo segna quindi va bene fa parte del calcio anche questo e ovviamente il tifoso rosica quando il giocatore in crisi invece riesce a segnare proprio contro di te non credo che sia la partita giusta per far rifiatare Danilo però vediamo che cosa succede Locatelli, Rabiot e Fagioli a centrocampo Costice, Quadrado sugli esterni questi uno contro uno con Maruzice e Disai dovrebbero essere questi i giocatori scelti da Maurizio Sarri sugli esterni e non Lazzari o Pellegrini a centrocampo per l'Alasio Milinko, Vissavic e Luis Alberto che non possono assolutamente essere esclusi da questo match e Vessino piuttosto che Cataldi in difesa la coppia è formata da Casale e Romagnoli che è la miglior difesa di Serie A al momento insieme a Provedel tra i pali dopo un inizio disastroso per inizio possiamo intendere una decina di minuti di Maximiliano che dovranno vedersela con Vlaovic di Maria lo stesso Vlaovic che in questo momento è assolutamente in difficoltà e dovrà cercare dal suo canto di riuscire a sbloccarsi in un momento abbastanza tragicomico perché Vlaovic su azione non segna veramente da tanto sarebbe probabilmente il momento giusto di trovare una bella rete in combinazione magari con Di Maria e annullare tutti questi momenti di crisi attenzione perché ho trovato una statistica interessante questa è l'Alasio sempre il sito della Serie A che come al solito è molto preciso da questo punto di vista mi piace sempre fare analisi sul sito della Serie A questi sono i quarti di tempo in cui l'Alasio va a segnare nei primi 15 minuti l'Alasio parte molto forte infatti ha segnato ben 10 gol nei primi 15 minuti di primo tempo tra il quindicesimo e il trentesimo soltanto 5 il che significa la metà e tra il trentesimo e il quarantacinquesimo 6 significa che dal quindicesimo al quarantacinquesimo l'Alasio ha segnato tanto quanto nei primi 15 minuti quindi aspettiamoci una squadra che partirà veramente molto forte cercherà di segnare nei primi 15 minuti per poi tra virgolette rilassarsi un attimo mollare un attimo la presa che non significa che non facciano gol però sicuramente sono più forti nei primi 15 minuti tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo soltanto 4 tra il sessantesimo e il settantacinquesimo si riparte ancora una volta forte quindi una sorta di flessione tra il finale del primo tempo e l'inizio del secondo per poi ripartire forte e chiudere dal settantacinquesimo al novantesimo con 9 quindi se dobbiamo individuare i momenti in cui l'Alasio attacca molto con più frequenza l'inizio della partita i primi 15 minuti è la mezz'ora finale del match dentro il match invece è una squadra un po' più tranquilla già questa è una statistica molto interessante per quanto riguarda invece i gol subiti sempre per quarti di tempo nei primi 15 minuti dove parte forte ha segnato 10 gol non ne ha mai subiti che significa che la Juventus dovrà veramente tenere dritte le antenne in quei 15 minuti iniziali dal quindicesimo al trentesimo ne ha subito uno e il momento giusto per attaccare nel primo tempo sono gli ultimi 15 minuti dove hanno subito 3 gol all'inizio del secondo tempo sono ancora più fragili ne hanno subiti 6 ed è lì che la Juve dovrà cercare di massimizzare le energie e poi sapevamo che poi ripartono forte dal sessantesimo al settantacinquesimo 4 gol subiti e dal settantacinquesimo al novantesimo loro comunque segnano nell'ultima mezz'ora ma sono anche vulnerabili quindi quelli sono i momenti in cui la Lazio va in assoluto sforzo e dove probabilmente concede anche qualcosina di più cerchiamo di rimanere concentrati nel primo tempo negli ultimi 15 minuti abbiamo anche la possibilità di fargli male ma nel secondo tempo sicuramente la Lazio non riesce a tenere lo stesso grado di attenzione rispetto al primo e quindi si scopre un po' di più allora cerchiamo di confrontarli con i dati della Juve nei 15 minuti di primo o secondo tempo la Juventus per gol assegnati bene o male sempre lì 5-7-8-9-7-10 forse una Juve un po' più diesel quindi negli ultimi 15 minuti in grado di tirar fuori un qualcosina di più anche dal punto di vista motivazionale probabilmente dove la Juve si sente più a suo agio ma stiamo parlando comunque di una squadra che ha suddiviso bene i gol segnati per quanto riguarda la difesa tre gol subiti dalla Juve nei primi 15 minuti che non è male dato che comunque invece la Lazio li spinge veramente tanto così come nei 15-30 e invece attenzione dove la Lazio è un pochino più rilassata un pochino più carente anche dal punto di vista difensivo nel primo tempo lui è anche la Juve quindi dal trentesimo al quarantacinquesimo può essere che vedremo qualcosa all'interno di questa partita perché tutte e due le squadre da quel punto di vista li iniziano a mollare la Juve comunque riparte non proprio concentrata nei secondi tempi migliora leggermente dal sessantesimo al settantacinquesimo e poi diventa granitica dal settantacinquesimo al novantesimo se dobbiamo individuare le due aree principali dove qualcosa può accadere all'interno della partita gli ultimi 15 minuti del primo tempo gli ultimi 15 minuti del secondo tempo sono i momenti in cui Juventus e Lazio probabilmente si trasformano quindi attenzione lì e ovviamente per la Lazio bisogna tenere sotto controllo i primi 15 minuti se la Juve riesce a resistere quei 15 minuti lì allora attenzione ai finali di primo e secondo tempo ovviamente non è l'unica cosa da considerare ma ci sono dei dati molto molto siccome particolari e rilevanti pure qui cerco di allargarvi un po' la schermata così potete vederla meglio attenzione perché abbiamo visto fino adesso delle squadre che in casa hanno un rendimento e in trasferta ne hanno un altro molto bene anche la Lazio non sfugge a questa regola il problema è che quale invertiamo tradotto la Lazio ha segnato 44 gol e ne ha subiti soltanto 19 tra l'altro nelle ultime 6 partite 6 clean sheet e questo è un dato strepitoso la Lazio è la migliore difesa della Serie A però in casa di queste 19 gol ne hanno subiti 12 il che significa che in trasferta ne hanno subiti soltanto 7 e tra l'altro la Juve ne ha dati 3 in trasferta quindi la partita complicata se vogliamo l'abbiamo già giocata la Lazio in casa subisce leggermente di più non di tanto ma leggermente la Juventus invece fuori casa ha più difficoltà perché in casa è un rullo compressore fuori casa in 13 partite ha segnato soltanto 12 gol e ha subito 10 reti quindi attenzione che Lazio e Juventus oggi vanno a giocare la partita nella quale si trovano più a disagio e quindi tutto può accadere può essere veramente una partita tra tripla all'andata invece abbiamo vinto 3-0 doppietta di Ken e gol di Milik Ken che non sarà della partita poiché squalificato dopo la diffida e dopo il cartello giallo rimediato Milik invece parte dalla panchina può essere un'arma a partita in corso e come abbiamo visto gli ultimi minuti possono essere frizzanti quindi anche giocatori come Chiesa e Milik oggi possono essere giocatori importanti per la Juventus andiamo a vedere altri dati molto molto interessanti va bene bisogna semplicemente semplicemente stare attenti a Zaccagni che ha già segnato 9 gol così come Immobile che comunque è stato fuori tanto Filipe Anderson ne ha segnati 6 Pedro ne ha segnati 4 5 gol anche per Milinkovic Savic quindi attenzione ovviamente ai centrocampisti dell'Alasio che sono sempre ben dotati anche dalla distanza bisogna stare molto molto attenti per quanto riguarda invece il rendimento recente l'Alasio nelle ultime 5 ne ha vinte 4 ne ha pareggiata 1 sempre senza subir gol 2 a 0 al Monza ha vinto il derby 1 a 0 gol di Zaccagni 0 a 0 a Bologna contro un Bologna che sta facendo un ottimo campionato ha vinto a Napoli con il Napoli gol di Vessino e ha vinto per 1 a 0 contro la Sampdoria quindi l'Alasio veramente che dal punto di vista difensivo nelle ultime partite non ha concesso praticamente niente in Serie A la Juventus invece nelle ultime ha vinto con l'Ellas ha vinto con l'Inter ha vinto con la Samp ha perso con la Roma e ha vinto col Toro quindi da questo punto di vista abbiamo un rendimento uguale praticamente parallelo per le due squadre con 4 vittorie una sconfitta con la Juve che sicuramente invece ha concesso di più perché nelle ultime 5 ha subito 4 gol 2 dal Toro e 2 dalla Sampdoria quindi attenzione a questa cosa qui la Juventus è una squadra più forte leggermente più forte della Lazio dal punto di vista dei gol fatti è leggermente più debole dal punto di vista dei gol subiti è paradossale pensare a questa partita Allegri contro Sarri in cui Allegri arriva favorito dal punto di vista dei gol segnati e Sarri arriva favorito dal punto di vista dei gol subiti ma questo è la Juventus è una squadra che tira leggermente di più della Lazio in totale e anche nello specchio della porta e fa più assist la Lazio è una squadra che passa la palla tanto di più della Juventus è una squadra con un'ottima precisione di passaggio dell'85% ed è una squadra che gioca molto sulla tre quarti la Juventus è una squadra leggermente più fallosa la Lazio dribbla leggermente di più ma non di tanto come non di tanto la Juventus ha un baricentro medio più alto ma attenzione che qua abbiamo anche una lettura molto importante perché la Lazio ha 2.64 cross riusciti a partita la Juve 6.71 che cosa significa? che la Lazio è una squadra che gioca molto più per vie centrali la Juventus è una squadra che sviluppa molto più il gioco per vie esterne quindi attenzione che la Juve dovrà cercare di arginare il centro del campo e la Lazio dovrà cercare di arginare invece l'esterno del campo per cercare di neutralizzare il gioco dove sono forti gli avversari quindi una squadra la Lazio che tiene molto più la palla a volte anche nella propria metà campo invece nella metà campo avversaria sono due squadre che non amano avventurarsi particolarmente soltanto 0.26 nella metà campo avversaria a livello di possesso rendimento atletico lo vedremo dopo la Lazio è una squadra che corre di più in Serie A quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista perché sono una squadra assolutamente in forma dal punto di vista fisico lo dice anche la classifica lo dicono anche i numeri sono comunque la miglior squadra di Serie A dal punto di vista dei gol subiti e lo ricorda anche ovviamente la classifica la Juventus con i 15 punti sarebbe al di sopra della Lazio di soltanto 4 punti quindi un vero e proprio scontro diretto per due squadre che sono molto simili dal punto di vista di quanto fatto fino adesso all'interno dei campionati italiani loro hanno due giocatori a quota 9 in Serie A sono Immobile e Zaccagni entrambi con due rigori anzi Immobile con due rigori segnati Zaccagni con uno stiamo parlando di 18 gol in due giocatori bisognerà mantenere un occhio di riguardo proprio a loro però dal punto di vista di gol segnati Juventus e Lazio sono molto simili e dal punto di vista invece dei tiri totali la Lazio è una squadra non eccellente la Lazio è una squadra che tira poco e quindi probabilmente riesce a convertire leggermente meglio peggio della Lazio soltanto Salernitana Sampdoria e Lecce quindi una squadra che magari arriva là poi fa fatica a convertire in gol attenzione però rimbadiamolo ancora una volta oggi torna Immobile è sicuramente un modo diverso di approcciare per qualche motivo mi è saltato l'audio nel finale quindi devo doppiarmi dicevamo la Lazio la squadra che corre di più in serialo potete vedere dalla classifica e attenzione che sono anche molto forti dai gol della panchina ben sei gol dalla panchina noi con Chiesa e Milica oggi invece potremmo trovare qualcosa per scalare la classifica e niente nel finale dicevo delle cose a caso e a me dispiace dovervi portare un video di questo tipo ma l'ultimo minuto ha deciso bene di non funzionare ci vediamo oggi pomeriggio con tutti gli altri contenuti ciao ragazzi scusate ancora grazie a tutti